oggi siamo nel lazio obiettivo dell'escursione odierna raggiungere la cima del monte redendore durante questo hiking diciamo questo percorso giornaliero visiteremo anche l'eremo di san michele il percorso sarà fatto andata e ritorno per lo stesso sentiero andiamo grazie a tutti dal rifugio pornito fino a raggiunge l'eremo di san michele e poi ultimo tratto fino al redentore io in descrizione vi lascio la mia traccia gpx così potete seguirla iniziamo la discesa per lo stesso percorso in descrizione vi lascio anche le coordinate gps di dove parcheggiato l'auto e siamo giunti alla conclusione se vi è piaciuto il video se vi potrà essere utile iscrivetevi al mio canale youtube in viaggio con il cast e luci e ci vediamo alla prossima